Prenderanno il via dopo l'estate i tanto attesi lavori di ristrutturazione del pontile di Roseto degli Abruzzi. Il Comune ha annunciato a stretto giro l'uscita del bando, una struttura che ricordiamo costruita negli anni Ottanta e che nel tempo ha ricevuto pochi interventi di manutenzione. La corrosione generata dalla Salsedina ha letteralmente sgretolato il pontile. Ricordiamo che esiste un progetto di recupero che prevede un intervento radicale per un importo iniziale di un milione di euro. Per il pontile di Roseto occorreva sbloccare l'iter dell'appalto e della gara sottoscrivendo una convenzione a tre con la Regione Abruzzo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo ha portato a un ritardo, abbiamo pressato moltissimo per avere questa bozza di convenzione. È intervenuto, debbo anche dirlo e ringraziarlo, l'ex presidente D'Alfonso per aiutarci e il MIT finalmente ci ha rimesso questa bozza di convenzione, quindi stiamo preparandoci alla sottoscrizione di questa convenzione. Dopodiché l'iter per andare a gara subirà un'accelerazione notevole. Noi siamo pronti, abbiamo già un progetto pronto da approvare e perfezionare e quindi contiamo di dare una risposta per la ristrutturazione di questa importante struttura turistica, per questa importante attrattiva di Roseto in tempi brevi. Il pontile è diventato dopo tanti anni appunto un luogo di passeggio che è prediletto dai nostri turisti. Dovevamo sistemarlo. La sensibilità di Regione Abruzzo, l'aiuto di Regione Abruzzo che ci ha indicato i fondi a cui attingere è stato prezioso e possiamo finalmente dire che è avviata a soluzione questa tematica. Il pontile è fortemente ammalorato e quindi c'è estrema urgenza. Contiamo per l'estate 2020 di arrivare con un pontile quantomeno messo in sicurezza.